Ciao mio caro amico aspirante, trader professionista profittevole, oggi è ancora martedì 2 ottobre 2018 e lascio dimostrare il secondo trade della giornata Ti avevo lasciato con 262 doda di profitto, con il primo trade long con 3 contratti, bene ecco il secondo Come vedi ho posizionato due contratti sell alla rottura, nel grafico a un minuto, di questa candela rossa Quando il mercato ha fatto questo veloce swing rompendo il massimo overnight e andando sopra il prezzo del 7 metri cigago, questa linea verde Bene, sono entrato alla rottura di questa candela a due contratti, come vedi qui c'è un sequenza decline sul foot 20 a 30 minuti sulla prima candela Mio stop loss era in cima a questo swing, ebbene il mio primo target era un tick prima del minimo assoluto di questa sessione E un secondo target più in basso, ti farò vedere del market profile, bene come vedi il secondo target era praticamente sul POC overnight Il primo target era un tick sopra il minimo assoluto della sessione di oggi usa Bene, un aumento, il mercato come vedi va giù, va a ribasso, come vedi il mercato accelera Arriva, questo è il grafico regola trading hour session dell'SP Mini 5, il mercato arriva vicinissimo a prendermi il primo target Ma purtroppo per un soffio fa un leggero pullback, ma poi dal punto di mezzo il mercato continua a scendere a ribasso E come vedi va a prendermi il mio primo target, e a questo punto muovo il mio stop loss da qua sopra In trading stop profit sopra questi due grossi stacchi di sell in balance E aspetto il mercato esploda in volatilità ribasso, ma purtroppo non accade E a questo punto succede che il mercato mi stoppa in stop profit, ma poco importa perché quel che conta è aggiunto A 262 dollari di profitto, altri dollari chiudendo la sessione, secondo te profittevole, al totale a 437 dollari Quindi caro amico, se anche tu potrai in questo modo fare meglio di me, di Almighty Allora scrivi la tua strada adesso e mandala al link sotto a questo video In un momento ti noterò, vediamo se possiamo lavorare insieme per farvi diventare un teleprofessionista profittevole Nel mercato dei future, delle azioni e delle opzioni Ciao da Almighty e ti auguro grosse grazie sui corsi profitti Alla prossima sessione di trading e ci vediamo al prossimo trade Ciao